Padre, la settimana per la vita consacrata si è appena conclusa. Possiamo fare un bilancio? Possiamo e dobbiamo dire grazie a Dio per come è stata vissuta, grazie ai consacrati, alle consacrate che hanno partecipato nella totalità, grazie anche, è la prima volta che succede, alla partecipazione dei seminaristi e dei loro educatori, dei loro animatori. Ogni sera abbiamo potuto ascoltare la testimonianza e la realtà delle consacrate, dei vari istituti, dei istituti maschili, che hanno non solo parlato, ma portato delle persone che hanno animato, hanno aiutato a rendere presente il carisma che loro vivono. Il tutto è stato un po' solennizzato in modo completo il giovedì 5 febbraio con la testimonianza di alcuni religiosi giovani, due suore abbastanza giovani, due religiosi anch'essi giovani che dovranno diventare sacerdoti, i quali hanno fatto vedere la gioia, l'entusiasmo di consacrarsi a Dio. Quando voi vi sposate si dice siete contenti come una sposa, mai sentito come uno sposo. Invece io qui posso dire abbiamo visti contenti come religiosi consacrati e come religiose consacrate, cioè la gioia di donarsi a Dio. E il Vescovo ha visto attorno a sé tutti i consacrati, le consacrate della diocesi, della città, e ha voluto ricordare i fini di quest'anno che il Papa ha espresso con la sua chiara, semplice essenzialità. Guardare al passato per ringraziare, vivere il presente con passione e guardare al futuro con speranza. Ci auguriamo che nelle parrocchie e anche in diversi istituti facciano conoscere questo dono. Noi ci impegniamo ad andare nei gruppi giovanili a presentare il dono della vita consacrata. Ci saranno altre iniziative perché quest'anno non passi in vano. Quindi grazie anche a voi che ci avete ripreso.